ho voluto fare questo video perché per ricordarmi nel senso che perché dopo diventando vecchio la memoria vi parte e parte e dunque io faccio tutto video su youtube per ricordarmi come 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 un hard disk dove posso mettere i miei ricordi e questo ricordo che vorrei tenere bene scolpito e niente premetto che con questi due ragazzi sono due ragazzi bocciati con cui ho avuto anche delle discussioni che però però mi ha fatto felice nel senso che niente vi faccio ascoltare il video che poi oscurerò per non far riconoscere gli alunni e niente è una cosa che mi ha emozionato che mi ha reso felice e che è una delle poche soddisfazioni che può a mio avviso avere un docente niente vi faccio vedere il video profe buonasera siamo io e volevamo chiederle se veniva qua al plazzo stasera che almeno facevamo festa assieme spacchiamo merda esatto perché ci mancherà l'anno prossimo se l'anno prossimo vorrà venire a far festa con noi ci saremo sempre noi sempre fedeli al professore orio buonanotte se non viene a far festa stasera niente io poi come qua si vede gli ho ringraziati alle 23 50 di sabato e niente poi mi manda questo messaggio che mi ha reso ancora più felice e ve lo faccio ascoltare profe per lei faremo questo ed niente quando sono andato in azienda mi hanno detto che sono il miglioro a usare solidworks no davvero profe comunque ci hanno detto tutti quelli con cui siamo andati in azienda che siamo i più bravi a disegnare perché almeno le basi ce l'abbiamo invece tutti quelli che vanno tipo di fp così non hanno le basi né niente noi comunque alla fine magari ci pagano anche perché siamo bravi a disegnare ok ci vediamo la prossima arrivederci